Sulle liste d'attesa la ASL di Teramo, attraverso un comunicato stampa, mette in luce il corposo piano di abbattimento messo in campo dal 2019 ad oggi. Risultati evidenti soprattutto sulle prestazioni tempo dipendenti. Oggi sono garantite entro i tempi previsti dalla normativa oltre la soglia ottimale del 90% fissata dal piano nazionale e da quello regionale sul governo delle liste di attesa. Per questo tipo di prestazioni restano criticità per visita a Torino laryngoiatrica, urologica, gastroenterologica, risonanza addome, ecografia addome, elettromiografia. Per questo la direzione strategica ha adottato l'acquisto di tecnologie avanzate come PET, risonanza 3 Tesla e TAC multistrato e il reclutamento di personale, contrattualizzando anche medici in formazione specialistica. Contestualmente la ASL ha dato attuazione al piano regionale di recupero delle liste d'attesa, finanziato con 2.570.000 euro. A fine settembre sono stati recuperati 829 interventi chirurgici, cioè oltre il 71% delle relative liste di attesa. Recuperate inoltre 6.841 prestazioni ambulatoriali e 6.615 prestazioni di screening oncologico. Maggiori criticità si evidenziano sulle prestazioni programmabili, cioè non urgenti, in quanto le seguire per legge entro 120 giorni. In questo ambito la ASL adotta una lista d'attesa nella quale inserisce i pazienti che vengono chiamati non appena si libera un posto dagli appuntamenti non confermati. Il problema delle liste di attesa non è teramano, ma nazionale e trasnazionale, commenta il direttore generale della ASL Maurizio Di Giosia. Non possiamo eliminarlo, ma per noi è una priorità contenerlo fortemente in modo da dare risposte ai cittadini.